Oscar Farinetti facendo in maniera però di offrire agli artigiani italiani un luogo dove esprimere la propria meraviglia quindi anche deve essere un po' un dono all'artigianalità del gusto italiano e poi deve avere il fatto di portare i cittadini del mondo in Italia e specificamente a Bologna a capire il cibo e l'altra cosa è di portare i bambini a capire che le pesche nascono sugli alberi e non nelle cassette di supermercati che è un'altra spiegazione importante, un altro lavoro importante che deve fare il fico quindi sono molto contento, oggi è una bella giornata, adesso cominciamo a lavorare